Ascoltatori di Radio Bla Bla, Walter Coda, Leone Dierna. Leone ci dici che cosa ne pensi dell'arte? Dell'arte? Io ormai l'arte la conosco da 300 anni fa, da quando ero da Danda Lighiera a Giacomo Leopardo, a Spartacus, ai fratelli Bandieri, non so, Leone Tolstoi, i papi Escair. Leone invece del tempo, che cosa ne pensi? Il tempo. Il tempo, e se domani noi vediamo cosa sento, e se la vita non ti vede cosa prendo. Leone sei fantastico, l'ultima cosa, quella più importante, che cosa ne pensi della rana? La rana è quella che si mette e lascia fecina, ma tu ti profite e te la mangia, che tu che si ricchiola la capente, ma tu hai la sorda tua. Leone ci fai un saluto diverso dal solito agli ascoltatori di Radio Bla Bla. A Radio Bla Bla, da Leone Dierna, da Papsescar, andate a pari. A Radio Bla